Signore e signori, buongiorno. Siamo a Lignano Pineta, veramente siamo in centro a Lignano Pineta. Questo è il centro di Lignano Pineta. 150 metri dalla spiaggia, zona con i negozi e che non amo. Terrazza. E' solamente una delle due terrazze, perché la seconda è sull'altro lato e andiamo a vederla troppo a me. Soggiorno pranzo con il banoletto, come avete visto, televisione e di là l'angolocultura. Buongiorno. Forno a microonde, fornello, lavatrice, lavastoveglie e frigo a doppia cella. Buongiorno. Aria condizionata. Eccoci nella camera da vetto numero uno, la principale, matrimoniale, con un bel armadio grande che ha accesso alla terrazza. Aria condizionata. Buongiorno. Crec SAP S. Buongiorno. 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 Camera da letto numero 2 con 1, 2 e 3 led. Un piccolo ripostiglio molto comodo, bagno o nocia. Eccoci sulla terrazza numero 2, molto ampia, con la zona living, affacciata sulla piazza del sole, quindi siamo proprio in centro a Liviano Pinesa, quindi i pro di questo appartamento sono, bello, due stanze da letto, completamente ristrutturato, completamente arredato a nuovo, aria condizionata, terrazze ampissime e vicinissimo al mare, bello. Grazie a tutti. Grazie a tutti.